Mister Pierantoni della Renato Curiangolana oggi 1 a 6, quindi risultato importantissimo, ma detto ciò che gara è stata secondo lei? È stata una bella gara svolta nel migliore modo dei miei, volevamo la vittoria a tutti i costi e la vittoria è stata, ma più che altro è stata una prova di maturità importante perché era una gara che poteva nascondere delle insidie se veniva sottovalutata, perché il Fossacesia comunque sta onorando il campionato e cerca di fare sempre la sua partita. Poi noi dopo il 2 a 0 abbiamo permesso di rientrare in corsa al Fossacesia, però il secondo tempo è stato di un livello alto. Mister Scaglione, purtroppo oggi un brutto risultato. Sì, un altro brutto risultato, ma nulla da dire ai ragazzi, il primo tempo dove ce la siamo giocata anche se eravamo sotto, poi con un uomo in meno, con la qualità che hanno loro, è stato tutto più facile per loro. Non lo da dire.